sta per scattare anche in lombardia la rivoluzione organizzativa nell'amministrazione della giustizia a partire da venerdì 13 settembre molti tribunali decentrati verranno accorpati nell'intento di ridurre le spese senza incidere sulle cause in corso e future anzi l'obiettivo è di rendere più efficace e rapida sia la giustizia penale che quella civile impresa non da poco dal momento che il nostro paese non brilla certo per rapidità dei processi nella revisione del sistema giudiziario in particolare il tribunale di crema viene soppresso accorpato a quello di cremona tra le proteste immancabili dei cremaschi quello di lodi invece dovrà essere ampliato per fare spazio anche le cause trattate dal tribunale di cassano d'adda destinato alla chiusura il ministero ha concesso qualche mese di tempo per adeguarsi alle necessità ma lodi non sarà facile reperire i locali da destinare i nuovi dipendenti in arrivo